Buongiorno a tutti, buon santo Stefano. In Inghilterra si chiama Boxing Day ed è il giorno dove ci si ritrova per mangiare i resti di Natale. Infatti oggi avrò qua le mie due cognate, mia suocera e mio nipote. E così almeno, visto che non abbiamo potuto festeggiare tutti insieme perché troppe persone, per me non va bene, per via delle malattie, così oggi arriveranno loro per pranzo. Io spero che voi tutti abbiate passato un bellissimo Natale e che non avete mangiato troppo. E niente, adesso mi devo attivare un attimo perché è un po' tardi, mi sono un po' arenata stamattina e adesso vado a prepararmi. Io vi mando un bacio, vi voglio bene e passate una fantastica giornata. Ciao!